puoi spingare dalla terra accendi, accendi questa è una maniera di pietro come questa è spenta no? la sembriatrice, la faga e diventa... la maniera di pietro la dina rischia, si la maniera di pietro guarda, non ti trovo va bene vedi la maniera di pietro per un po' di piedi no, si si grazie per romperi i guai grazie per romperi i guai grazie grazie